Via Solferino risulta essere una delle direttrici principali che collega l'ingresso del centro storico cittadino a diversi quartieri, tra cui Pantano, Villa San Martino e Tombaccia. Una segnalazione che arriva però da diversi cittadini denuncia le condizioni del manto stradale nel tratto adiacente alla rotatoria di Via Ponchielli e Via Giolitti. Le ramificazioni degli alberi posti al centro della carreggiata con il passare del tempo e degli anni hanno creato dei dossi che in particolar modo potrebbero avere conseguenze spiacevoli per i mezzi a due ruote. Le preoccupazioni e le richieste per trovare una soluzione al problema, espresse non soltanto da residenti e conducenti, non hanno però trovato ancora riscontro e nel frattempo gli avallamenti della strada continuano a rappresentare un rischio per la stabilità di moto e ciclomotori in movimento, come ci racconta in prima persona un cittadino che si trova a percorrere quotidianamente la via. Qualche volte la pratico per venire a trovare i miei e quindi mi trovo a trovarci questo avallamento che è molto pericoloso, tocca stare attenti se no si rischia di cascare o provocare un incidente. La strada non è liscia, ci sono stati avallamenti che creano dossi, quando arrivi con scooter con la moto è molto pericoloso. La cosa è stata già sollevata da parecchie volte da altri enti, altre persone anche diciamo da residenti, però ancora tuttora non si è verificato nessun intervento, nessuna risposta. Ci chiede di intervenire in prima possibile gli enti competenti. Fortunatamente ancora non è stato sognante, ma non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa prima di mettere a posto.